Polemiche in merito al divieto di transito per i motocicli istituito sulla via Ostiense, tra Ostia ed Ostia Antica, per ragioni di sicurezza. Oltre ad essere un provvedimento tardivo, attacca la consigliera municipale della Lega, Monica Picca, ancora non è stata apposta alcuna segnaletica che renda sanzionabili eventuali violazioni. Così si è pensato bene di dirottare sul posto gli agenti della polizia locale per svolgere un servizio a metà tra gli sparti traffico umani e i casellanti. Le critiche più pesanti in effetti arrivano proprio dai rappresentanti di categoria. Ancora una volta le pattuglie vengono mandate allo sbaraglio, dichiarano Paciocca e Venanzoni della CISL, per compensare un evidente deficit di pianificazione dell'amministrazione, che ha avuto 14 mesi di tempo per provvedere in maniera razionale. Intanto il Campidoglio fa sapere che il Dipartimento Simu si è attivato per predisporre la specifica segnaletica e informa che la procedura di gara per i lavori di manutenzione straordinaria della via Ostiense è quasi alla fine del percorso. A giorni infatti verranno aperte le offerte economiche e verrà dunque individuato l'aggiudicatario dell'intervento. Insomma il mantra è sempre lo stesso, stiamo lavorando.